Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Ragazzi da casa, bellissimi tunisiani, iscrivetevi, sono bello Allora, mettete tutti pronto, eh Ciao ragazzi, ciao mammi, mi sono mancati, mi sono mancati molto più Che cretino, che sembra proprio grande Sì, esatto, ragione degli, se c'è Eh, eh, allora Oggi, questo, appunto, faremo Fortnite Però ragazzi, vi devo fare una premessa prima Una premessa doverosa Quindi questo, ragazzi, è una prova, questo video Quindi, eh, stiamo, diciamo Non so se in futuro lo porterò, semplicemente Eh, ragazzi, basta che spolliciate Poi fate vedere che ci tenete Vedete che Denis sta a causa di un pezzo di, eh Che vuole fare le views Vuole fare le views Lui lo farà Cioè, porta altri video Allora, eh, prima di tutto Come al solito non si capisce niente di quello che dice Angelo Perché parla tutto scemo No, parla comunque più forte Non in modo serio Ok, più forte, bene Le scaldisci bene le parole Mannaggia, Gian Giuberto secondo Gesualdo e Gian Giuberto Ok È Gian Giuberto Mi sta proprio, ah, non va, eh Non va, sto pronto Pronto Contenuto, caricamento 100% Non va, metci in vista Allora, visto che non ho voglia di rifare l'intro, ragazzi Gabby è uscito, quindi Perché doveva fare altre cose Intanto sono successe un po' di cose Ed è passata tipo un'ora Ma, vabbè Dettagli Adesso ci rivediamo Nella lobla, ah, nel gioco Nella partita Nella partita, giusto Allora, where are we dropping, guys? Dove, dove, dove andiamo? Dove Ok, ragazzi, andiamo Dato che io conosco più di tutti di voi il zogo Ok, sì Barco o Borgo Dove vuol dire Barco? Quale vuole posso? Borgo, dai Borgo Ok, andiamo a Borgo È una cosa, però Io non so giocare, ragazzi, a Forna Non so giocare bene, perlomeno E quindi Mi dovete insegnare voi nei commenti Come giocare a Forna Perché Mi faccio schifo E quindi Quindi niente È troppo modesto, ragazzi Ma vedete In realtà è un Borgo Eh, magari fosse Magari fossi modesto Magari fossi modesto, Angelo Eh, sì, modesto Allora Vediamo di Eh Sì, non c'è gente Non c'è gente Quindi non moriremo Perlomeno Esatto Non moriremo È una cosa molto Molto bene Molto Esatto, esatto Molto buona Non venite nella mia casa Se no vi vanno Ok Ah Eh Vi vanno alla DS Vi tolgo dappertutto Quindi Non so nemmeno Chi è che è uscito il cre... Chi è che è uscito? No Gian Giuberto Gian Giuberto Gian Giuberto Fede non si muove Gian Giuberto No, Gian Giuberto è crashato Niente, ragazzi Mi sa che questa sarà una duo A quanto pare Perché a quanto pare Anche la nostra amica Ha dei problemi Eh Ragazzi Oggi è un video un po' troppo strano Ok È una giornata un po' troppo strana Gian Giuberto c'entra sempre Mi raccomando Angelo Siamo solo io e te Ok Oh aspetta Fede Fede si sta muovendo Ma piano piano Si sta muovendo E questo vuol dire che Ok è entrata nel ceno Ok Quindi voglio dire che Fede Non è crashata Fede ci sei Eh no non sono Zappa Si sente tutto Si Guarda Fede Fai prima a far silenzio Ah Oh io Ah Dov'è Una Fede Fede Ok 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 Ah Gian Giuberto No raga No raga Aiuto Aiuto Non so giocare Non so giocare Ah ti ho visto brutto schifo Ma questo è un bot Ma che schifo Si è un bot Non lo sto sottovalutando Ma non si sottovalutano i bot Chi è No 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 Angelo Grazie Aiuto No 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 Io sto Cioè io ho poca vita Cioè poca 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 Paca Ah tieni Faccio il medikit Oh grazie 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 Hai già trovato il medikit Penso un po' No no Non ho le cose io Ok No Ok mi faccio il medikit Sto qua Ah perché mele mele Ok Ah perché mele mele Ok Fede si sta muovendo Fede ma Ok ti stai muovendo Ma a me hanno le armi Come si è messa Non è fattibile Non è fattibile Lagga Uno schifo totale Allora Ma non vedo niente Cioè non Vabbè allora Fede Silenzio tanto Massimo questo sarà una 2 Non importa fa niente Allora Fede c'è comunque di giocare Ma è che vada Anche se il pc non te lo permette C'è comunque di muoverti Salta non lo so Esatto esatto E tu silenzio mi raccomando Fede parla il quanto meno possibile Perché se laghi Non parlare così però Fede Fede siamo in un video silenzio Ok Ok allora Perché se ti lamenti per tutto il video Poi non va bene Ok Se non va fa niente Fede Fede ma mi sente scusate No non ti sentivo No non ti sentivo Era tutto quanto Tipo stanco Allora Fede Allora silenzio Fede Non dir niente Va bene Allora Mi sta sentendo oppure no Mi sto arrabbiando Ragazzi della casa Cioè Allora voi state assistendo ad una cosa Alle apparecchiature Dei miei amici Che sono molto Molto elevate Alcuni Alcuni ce ne hanno Problemi Perlomeno Esatto Alcuni Alcuni hanno Buone apparecchiature Altri no Allora No Gian Giuberto Secondo Ma Fede No Fede A me mi è cacciato Sì Vabbè Allora fa niente Fede Ragazzi Sarà una Due versus squad Esatto Due versus squad Sarà molto impegnativa Io cercherò di dare il massimo Perché comunque dovrò Carriare Il caro Dunis Esatto Dovrei caricare Il caro Dunis Perché io Caricare Sì Caricare Sicuramente Carriare Non caricare Carriare Carriare Allora C'è un team davanti a me Vorresti aiutarmi Oppure Certo Certo Dov'è che sei? Certo Aspetta che scherzavo Non tieni shield Non tieni shield Non manco per sbaglio No certo Ho 50 Vabbè Non ho il massimo Come 50 Ah no no Che tengo shield Oh Ma sei solo dovevo sparare? Eh da dietro Mi sta Eh mi sta di sì Eh no Cos'è Allora Eh mamma mia Cos'è No Allora Apro da destra Ci stanno già ammazzando tutti Aha Ti uccido io Mannaggia Gian Giuberto Ma questo era scemo Vabbè ok La gente è tutta strana Ma secondo me sono bot Non so Ma pure per me Cioè io sciocco basito Cos'è perquisisci? No lo uccidiamo direttamente Perché è uno schifo C'è qualcuno che sta sparando dietro Non so chi Come qualcuno sta sparando? Ok tipo da me c'è uno Da te c'è un cristiano adesso Allora È un bot Ah no forse non è un bot Non è un bot Ma forse sì Sì è un bot Scherzato Mamma mia Mamma mia C'è che In partire il video Ho detto ma è un bot Mi ha colpito in testa Mi ha tolto 900 Ma il paracadute a cosa è che serve? Cosa? Il paracadute a cosa è che serve? A un Se tipo cadi all'elicottero Te lo butti giù e non muori Ma Ah Che Va bene Non penso che mi serve Usarlo pure per andare in 6 Più veloce Cioè Ah Ok Me lo prendiamo questi Tutte queste cose che ci servono Perché Cioè Modestamente Ok Modestamente Esatto 527 Allora Carissimo Angelo Mi segua Mi segua Perché Vieni e te lo fai Bravo 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 Comunque Mi segua Dopo mi segua Perché Così Vai vai Io la seguo Ok Bravo Esatto Allora Allora Silenzio Vai vai via Perché Perché non costruisce Perfetto Hai visto quanto sono bravo a costruire Mamma mia Mamma mia Sei bravissima Allora Prendiamo le cose Sì Gli shield Ok Non sono bravo a portare fortnite Io non Non ho mai portato fortnite Fortnite Anche raga Se è un scioppone Veramente che Non sono Un scioppone Un scioppone Raga dice che non gioca E più scioppa Cioè I the me boys È una cosa normale Questo serve a qualcosa Secondo me No Un po' schifo Cosa Sparabend No Fa schifo Basta Non mi serve Bravo Schifo Allora C'è gente che lo usa Però a me fa cagare Cioè C'è veramente proprio Fa schifo Diciamo Fa schifo Sì Fa schifo Schifo Comunque siamo in 36 Raga Comunque Una 2 versus squad Ma il che va da A quanto ho visto Inizio partita Sono tutti i bot Quindi Cioè Abbiamo molte possibilità Di vincere Esatto Cioè fa schifo Ok Alla qui ci sono Dei tizi Dei tizi Che hanno L'automira Sono dei bot Che hanno Un'automira Incredibile Che schifo Ah Ok Ok Non è un'occaso Però stai attento Perché hanno Un'automira Che veramente Ti scoppiano Ti fanno male Ah guardano Mamma mia Boh Vabbè Non so Non mi sembrano Così forti Però Sì 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 O hanno Ritotto L'automira Perché Ammina Ti sbunnava Cioè Cos'è Scanzione Come Ti stanno Ammanzando No Tranquillo Ecco Vedi Se vedi C'è quello Di quella Tom Con la Tom Il problema Eh Vedo Vedo No vabbè Ma Tanto Il problema Se ti va dietro Ma non muoiono Ti fanno schifo No Quello Teneva troppa vita Ok Ora dentro Ce n'è uno Ah Guarda un po' Qua Chi c'è Ma questo è scemo Ah Comunque Non ti farò vedere La telecamera Se non ti uccidono Ah sì Dov'è la telecamera Eh Quando Ti 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 Qualcosa Scappi Chi Ci sta sparando Eh Un altro Non sto capendo Non lo so Sinceramente Non sto capendo Allora Madonna Com'è che si ricarica Qua che non so Con R Con R Allora Non mi si sta ricaricando Eh mamma mia Cos'è Medaglia Super potenziamento Cose Non so Aiuto Qua c'è gente Ah ma dove Andare Oh Là c'è un tizio C'è un tizio No C'è un bot Perché R Non Eh sì Fanno tutti schifo C'è che schifo Vedi C'è Comunque Questa è una partita Di iniziazione Comunque Possiamo che avrebbe a livello 10 In teoria Ma ho preso Ho preso lo scar Dove lo scar Lo scar silenziato Mi sono fatto vedere Dalle telecamere Perfetto Andiamo Dalle telecamere Cos'è cosa Vedi Brutto schifo Allora Più all'elicottero Dato che ti devo seguire a te Sì Sare tu a guidare l'elicottero Sai come si guida no Fermo Non salire No Com'è che si scende Vieni Vieni Ok Vieni Aspetta Ok Ok Vieni Con il tasto destro Sinistro No Vabbè No Sì 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 Ok Cambio Con il tasto destro Adesso Cambiamo posto Contro Cambio posto E vieni a girare Ok Ok Con il tasto sinistro Del mouse Vai sopra Con il tasto destro Scendi sopra Ok Del mouse Sì Ok Vai Cambio Cambio posto Vieni la guida Vieni la guida Vieni la guida Vieni la guida Ma io sto cambiando Ok Stasto sinistro Stasto destro Ah ecco come Ok Poi con shift E faccio Ok ok Molto bello Molto bello Devo dire Andiamo qua In questa città Andiamo in questa città Angelo Andare qui Sì vai Andiamo Non ti sento molto sicuro Vabbè tanto Ma che volta sono bot Quindi la vinciamo Cioè 100-100 Ok vabbè Vabbè La goal La un guido Ma io c'è Giocavo ai tempi Di quando Oh di nuovo No Aiuto No Deniz Madonna No ragazzi Comunque È dura È dura È dura È dura È dura Giocare con Duniz Perché Duniz Non sa giocare Aiuto Ok Vai Com'è che si esce Con E Ok Oddio Va tutto bene Angelo Ok No ho perso io Io non ho Non ho mazzo Comunque Non è mazzo Puri termini Puri termini Cioè Quanto sono Quanto Cioè Troppo Troppo No ragazzi Cioè È scaricato oggi Cioè Oggi sì Oggi sono Già Un pargolo Sì Un pargolo Sacro La gente Dai Smi chiedi allora Eccolo 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 La gente Tu sei da solo Angelo Meno male Che mi devi seguire Cosa Cosa hai fatto Allora Se io vedo gente Naturalmente Che non ti seguo Cioè Che dici Non gli uccido Certo Che li uccido Cioè Io Mi cero la testa C'è gente Oh c'è gente Era una banana Respiro troppo Ok Allora Secondo me Questo video Farà schifo Comunque Io te lo dico Ma è scema Questa banana Ok Mamma mia Proprio Cosa sto facendo Aiuto Lo stai perquisendo Lo stai perquisendo Ok Non so F Ma no Allora Porca miseria Ok vai Era meglio fare una Detran Madonna Sì Ma cos'è La Detran Tra l'altro La Detran È tipo Non è un parkour È tipo Hai presente Le cast Quelle gare Che abbiamo fatto Ieri di Fortnite Sono così Però Solo che le devi fare Con gli uomini Ma io non c'ero Ieri su Fortnite Che stai dicendo Cosa Ah su GTA Dici Tu hai detto Ieri su Fortnite No Le gare Intendevo Ah Ok Ok Sono uguali A quelle Cioè Quelle di Sono uguali Però tipo Le fai con gli uomini Salci A parkour È un misto Un misto di merda Non si dice Non si dice Capisco Capisco Comunque Molto molto strano Vediamo se vinciamo Questa partita Battle Royale Perché Battle Royale Sì 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 Esatto Battle Royale No Dov'è il mio pompa Ok Sì ce l'ho Il tuo pompa Dai Ragazzi Non staggo Il pompa di Denis La pompa di Denis Dai Angelo Madonna No Sto arrivando Pensa che arrivo io Ti salvo Mamma mia Allora In lontananza Non vedo nessuno Perché Non so come Tu fai a vedere Le persone Ah Proprio Ma quello Un giocatore Ah 20 Io ho paura Scusa mia Io ho paura Il PD Perché non riesco A piazzare le robe Mannaggia Gian Giuseppe Allora Non mi dare a caso Allora Inizio un consiglio Ok di gioco Ok Non mi dare a casa Mi dare solo quando serve Ok Ok Mi le mando Ragazzi Poi si propone Di insegnare a Denis Come si gioca Gli lo scrive nei commenti Ok Perché io sinceramente Non ce la faccio Ok Ok Quindi Chi vuole insegnarmi A giocare Lo scriva nei commenti Lo scriva E poi verrà Con contest Il nome più bello Verrà scelto Non so Non so Cioè È diventato il tuo canale Angelo Non so Boh Cioè io Boh Vabbè Al buona Ah Qua ho trovato Una cosa bella Però Ok Prendo Scusa Devo prendere delle cose Perché Prendo gli scildini E poi dopo Prendo questo Coso grosso A te serve Lo prendi tu Questo coso grosso Ah è lo scudo No no Ok Sì perché io faccio più schifo A giocare dico Ok Ah aiuto Stanno spawnando gente strana Perché Boh No sono Sono cloni Sono bombe Ah sono cloni No Aspetta Uno ha cerchionato uno Uno ha cerchionato uno Mi piace Ah guarda là Gli avversati decenti Ma può essere No Secondo me no 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 Sta fermo Sta fermo col cecchino Ma io ho paura Che mi uccidano Se non build Ma vai Se ti fai uccidere dai bot Io ho Quitto Quindi proprio Arrivo Allora Manca Esattamente Quattro persone Quindi Cioè Quattro Mi stanno pure sparando Quattro persone Vero Vero Da dove Da dietro Mi sa Ah no Da qua Da qua Da qua Da qua È uno però Ah ok Ce la fai È bravo Cioè Ovviamente ce la fai È bravo Questo sì Era bravissimo Mamma mia Prendo gli xp però Dai Me lo Me lo Le xp Eh Gli xd Sì Il problema adesso Ne rimangono tre Ma sicuramente Ne rimangono tre Ecco Allora ce n'è un altro Larno Dennis Nuovo giocatore Sì Proprio altro che Perché comunque Un Dennis in arena Ce lo vedo Andiamo a partecipare I tornei In America Facciamo i migliori Con Dennis Sì 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 Con Dennis Allora davanti a me C'è un altro Ok Un altro Ultimi due Mi pare che siano Ma pensa un po Quindi vinceremo Potrò scrivere Nel titolo Battle Royale vinta Cioè insieme Duo Versus squad Mamma mia Cioè ho Ho il titolo Clickbait Mamma mia il titolo Ma perché tu stai Costruendo cose strane Io non riesco A raggiungere Ok Vediamo Allora C'è gente che spara Vedo Non so Ah ecco lì E sono là Dici Al benzinaio Al benzinaio Là Beh già non vedo Ah beh dai Andiamo Perché no No Esatto Sì esatto Ci facciamo No Sbaglio Dobbentare Ma A grazia Mi spara Le costruzioni Veramente E qua E poi Voglio dire Che rimarremo Con un altro No Che oggi La mia Mi round Che cosa Mamma mia Cioè Ragazzi Cioè Proprio Nuovo player Forno Nuovo player Siamo rimasti Contro uno Il problema Qual è Se rimani Contro un bot E' bravo Sicile Trovarlo Ah Troppo difficile Perché Non si nascondono Sono dei robot Quindi sono Pure camperoni Esattamente Pensa un po' Che peccato Eh sì Allora Eh perché Così posso Io come al solito Non ho avviato il timer Ma vabbè Secondo me Secondo me Basta una partita Perché tanto La vinciamo Questo c'è capito No No la vinciamo No Non è che moriamo Contro un bot No Ma stai scherzando Allora se muovi contro un bot Si stagli il gioco Non ci gioco più Cioè Allora Lui non c'è Allora Muore da safe Dov'è sto schifo Perché voglio concludere il video Dicendo Yeah abbiamo vinto La battle royale 2 Versus squadra C'è capito Ma siamo fortissimi Cioè Proprio Altro che Adesso posso No Non posso ballare Che è successo No Vabbè Quindi ragazzi Questo è stato un video Di prova di fortnite Grazie per aver guardato Questo video Scrivete Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Scrivete Biro Raga Tranquilli Se dite che il video Fa schifo Stai tranquilli Perché pure per me Non è uscito un granché Perché comunque È stata una prova Una prova Esatto Una prova Una prova In quale caso Sotto i commenti Scrivete qualcosa Cosa potete Esatto Scrivete Fatecelo sapere Quindi noi ci vediamo Al prossimo video Tunisiani Ciao Ciao